Siamo tornati in studio e continuiamo a parlare della Dogis Half Marathon, 20 anni di quella che un tempo si chiamava Maratonina dei Dogi in Riviera del Brenta il 9 aprile. Una corsa, do il buongiorno a Sandro Ometto, atletica Riviera del Brenta. Lei è da 20 anni che segue questa manifestazione, prima come maratoneta, come atleta e adesso come coach, credo. E adesso seguo tutto il percorso della gara, sia a livello di sicurezza che l'altro giorno è stato omologato il percorso, quindi questo è un percorso omologato, AMI. Che cosa significa? Allora, omologato noi dobbiamo fare la miglior traiettoria, nella miglior traiettoria dobbiamo portare 21,97 metri dalla partenza all'arrivo. Questa è l'Half Marathon? Questa è l'Half Marathon. Quest'anno partiamo da Fiesso d'Artico, come si diceva prima, ogni anno cambiamo. Quest'anno abbiamo cercato un percorso, è già un percorso molto veloce perché questa è una maratona che ha 4 curve a 90 gradi, tutto il resto è rettilineo, quindi è molto 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 veloce. Non ci sono scuse, si possono sbizzarrire gli atleti e andare forte. Quest'anno abbiamo fatto da Fiesso d'Artico, andiamo verso Stra, a Stra facciamo queste due curve di 90 gradi, poi risaliamo la parte, la padana inferiore, tutta la parte dietro la riviera, risaliamo a Mira, da Mira ritorniamo sulla padana superiore, sulla statale che porta a Venezia e ritorniamo a Fiesso d'Artico. Il percorso diventa ancora più veloce, secondo me, perché oramai in primavera, io avendola fatta da atleta, è una maratonina spesso dove tira anche un po' di vento in primavera. Il vento viene dal nord-est, allora quest'anno si parte da Fiesso d'Artico. A favore di vento? No, allora, in poche parole cosa succede? Il vento si alza durante la giornata, quindi noi partiamo alle 9 e un quarto, andiamo verso Stra quasi in assenza di vento. Facciamo la padana superiore, dove, cioè inferiore, dove arriviamo a Mira e da di là il vento incomincerà ad alzarsi. Quindi avranno l'ultima parte della maratonina col vento molto alto, ma anche gli atleti, non di spicco, ma gli atleti anche che vorranno fare il proprio personale. Quindi avere il vento alle spalle per l'ultima parte della maratona, della maratonina, ci porta a correre molto molto più forte. Un vento buono, perché quella è anche l'area, adesso è naturale pensare l'area colpita dal tornado. Esatto. E' un vento buono, un'iniziativa dove prima sentivamo anche con la sua collega, un'iniziativa che ha molti eventi collaterali, ma che ci sono da una parte dei top runner, 20 anni, 2000 già iscritti. Quali altre curiosità ci può svelare? Chi sono questi top runner? Perché come al solito c'è chi, ci sono i professionisti, c'è chi allena la gamba, c'è chi fa una prova con se stesso seguendo il pacer. Allora questi top runner, naturalmente ormai i top runner arrivano tutti dall'Africa, ormai sono i keniani. Abbiamo degli italiani ma non arrivano a livelli così alti. Comunque abbiamo due keniani che possono stare sull'ora, l'ora è un minuto, e delle ragazze, sempre keniane, che possono stare sull'ora e 12. Ormai in Italia non abbiamo più atleti che corrono così forte. Però abbiamo atleti del luogo, professionisti, che fanno dei tempi, chiamiamoli così, dignitosi. Certo, certo, abbiamo dei, noi siamo di, a Padova abbiamo le fiamme oro che hanno dei grandi atleti, però oramai non abbiamo più atleti di spicco come avevamo dieci anni fa. La scelta del percorso e quindi l'omologazione, come avviene? Quali sono i punti con chi va studiato? Perché appunto si parla di una gara internazionale, eccetera, cioè come si organizza un evento di questo tipo? Allora, il percorso va ben studiato, noi chiudiamo dei centri abitati, chiudiamo soprattutto una statale. E quella è la parte più difficoltosa, quindi abbiamo un supporto delle protezioni civili, dei carabinieri, dei vigili urbani, dei vari comuni che ci aiutano. Se pensiamo che siamo sulle 50 persone della protezione civile e altri 30 tra vigili urbani e carabinieri, cioè c'è un gran lavoro. Poi abbiamo tutti i nostri volontari, che arriviamo già un centinaio, quindi circa 200 persone ci lavorano attorno a questa macchina del percorso. È una macchina che ha tanti ingranaggi, insomma, però ogni dente di questo ingranaggio serve per far funzionare la macchina. È una corsa anche di solidarietà, Team for Children, no? Sì, Team for Children, quest'anno noi abbiamo sempre fatto questa corsa e è andato sempre quest'anno, abbiamo scelto la solidarietà su Team for Children, che dopo magari Enore può parlare di questa cosa qui, che è molto più preparato. Tornando al gesto atletico, lei appunto è un professionista, potremmo dire così, che consigli dare a chi volesse iscriversi per fare una corsa, per partecipare anche a questa festa? Allora, siccome l'atleta, anche non professionista, vorrebbe sempre migliorare il proprio personale, questa è una di quelle corse adatte per migliorare il personale, come spiegavo prima, proprio in assenza di vento, poche curve. Quindi io la consiglio proprio all'atleta che vuole migliorare il suo tempo in una corsa soprattutto omologata, cioè di distanza esatta. I runners, perché non so se è una moda, un'abitudine, sono spinti da spirito di competizione oppure, come si diceva prima con la signora Migliaccio, anche dal piacere di correre, dal piacere di attraversare luoghi all'aria aperta, ma che sono anche intrisi di cultura, di storia, di architettura. Allora, davanti probabilmente nelle prime file abbiamo quelli che cercano sempre di competere e di fare moltissimo. Credo se la godano molto di più la parte dietro della corsa dove andranno a visitare questa bellissima riviera del Brenta. Noi abbiamo usato come logo la Villa Pisani, che è una chicca lungo la riviera, meravigliosa. Esatto. E quindi penso che la parte che sta dietro gode un po' di più di questa cosa. Avete già 2000 iscritti, c'è un limite di iscrizioni? Oppure chiunque voglia iscriversi e poi deve essere allenato, perché non è che uno si inventa dalla sera alla mattina, diciamolo anche questo. Sì, non si inventa niente nella corsa, diciamo uno deve essere nato, soprattutto perché è una distanza anche abbastanza impegnativa. Noi possiamo ospitare fino a 3000 persone per come siamo preparati, perché come dicevo prima abbiamo un certo numero di persone e quindi riusciamo ad ospitare 3000 persone. La Maratonina è partita con la prima edizione con 300 persone, adesso siamo a questa e superiamo i 2000 persone, quindi è cresciuta e mi auguro crescerà nel tempo. Per il momento l'unico obiettivo è quello di arrivare alle nostre 3000. Vi inserite tra manifestazioni di altro livello, proprio a livello di categoria, tra la Venice Marathon, infatti ricoprite un po' il percorso, una parte del percorso della Venice Marathon è la Maratona di Sant'Antonio, la Maratona di Padova. Quindi siete un prologo e un epilogo per continuare l'annata delle corse in un territorio che si presta poi alla corsa. Allora sì, noi seguiamo parte del percorso della Venice Marathon e con la Maratona di Padova spesso viene usata la nostra maratonina, la nostra Alf Marathon, come preparazione alla Maratona di Padova. Quindi chi sta allenando per la Maratona di Padova viene a fare la nostra maratonina. Posso chiedere il suo miglior tempo? Il mio miglior tempo sono ad 1.23 e l'ho fatta proprio di oggi con la partenza d'Astra. È soddisfatto dei risultati? Scusatissimo. E in questi vent'anni cosa è cambiato? In questi vent'anni corro un po' meno, mi attivo però per far correre un po' tutti, quindi in questo caso mi sono attivato. La maratonina corre di più? No, beh, non corro ormai di più. No, 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 la maratonina come manifestazione corre di più oggi rispetto a vent'anni fa? No, di maratonine... Cioè c'è una maggiore adesione, c'è più interesse? C'è più interesse nella maratonina perché è più fattibile, è più alla portata di tutti. Ma chi la guarda, chi la osserva, il pubblico? Il pubblico lo stiamo portando sempre di più a livello delle corse perché ormai vedo nella provincia sempre più gente a correre. Se pensiamo tutti gli eventi che vengono fatti ormai anche in settimana che hanno dei numeri altissimi... Quindi ci sono più persone che corrono che più persone che vengono a vedere chi corre. Moltissime, cioè io mi ricordo quando tantissimi anni fa mi vedevano un pazzo che correva, oggi come oggi, faccio invidia quando mi vedono correre. Io ringrazio Sandro Metto dell'Atletica Rivera delle Brenta. Continuiamo a parlare della Dogis Alpha Marathon con un altro ospite per capire insomma quali sono gli eventi collaterali di questa festa e soprattutto scoprire perché si chiama la maratonina dei doji. Forse perché correvano i doji centinaia di anni fa, tra pochissimo. Grazie.